Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità centro e quadrante est cortei nel pomeriggio di domani. Quello in centro dalle 15 alle 19 sarà da Piramide a Piazza Bocca della Verità, l'altro a Centocelle dalle 17.30 alle 20 di domani partirà da Piazza dei Mirti e arriverà a largo agosto. È previsto un cambio di percorso per 25 linee di bus e per i tram 3L, 5 e 19L.